Allora, verrebbe da chiedersi che cosa abbiamo fatto di male noi tifosi del Milan per meritarci tutto questo. Abbiamo davvero venduto l'anima al diavolo come slogan? Vuole far credere? Non lo so. Continuo a restare molto dubbioso su quello che può essere l'operato della nostra società nelle intenzioni, ma allo stesso tempo attendo e cerco di capire bene quella che può essere l'evoluzione del nostro mercato fondamentalmente perché l'evoluzione di quella che sarà la storia del Milan nessuno può saperla e quindi l'unica cosa che possiamo fare adesso è stare qui e attendere di capire i perché e i per come di tante scelte che poi si riconducono fondamentalmente ai fatti perché se c'è una cosa che io cerco di fare da sempre è quella di attenermi a ciò che vedo. Poi è chiaro che qualche volta faccio delle supposizioni, qualche volta propongo la mia idea perché è giusto che sia così, in fine conto il mio canale devo fare questo sempre con la massima sincerità e la massima trasparenza in un confronto quotidiano che trovo utile e intenso anche in questo momento dove qualcuno fa di tutto per mettere in campo il famoso detto del divide e timpera, quella roba lì e quindi metterci uno contro l'altro per nel frattempo fare determinate cose. Devo dire che se questa era l'intenzione di qualcuno ci è riuscito molto bene perché al di là di coloro che insomma rimangono fermi sulla loro posizione riguardo ad esempio a Maldini o riguardo a Tonali ed è assolutamente legittimo che lo facciano, convinti che Maldini sia stato mandato via per il mercato e che Tonali sia stato ceduto per sua richiesta, io mi auguro che un giorno, e lo dico sinceramente, non debbano fare i conti con la realtà, mi auguro di dover essere io a fare i conti con la realtà. Cosa intendo dire? Intendo dire che mi auguro veramente di avere torto. Questo non me l'auguravo quando vi ho detto che Milano avrebbe vinto il campionato, assolutamente, lì ero convinto e con questa convinzione e con quella convinzione sono andato avanti per molti mesi. Adesso mi auguro di sbagliare, mi auguro davvero che come dicono tanti amici anche al gruppo Telegram dove si discute anche con toni accesi ma sempre nel campo dell'educazione, effettivamente l'opera della nostra dirigenza sia un'opera che non va nella direzione di uno smantellamento o di una distruzione o di una perdita di valore intesa come patrimonio dei giocatori ma che sia semplicemente un nuovo corso, un nuovo modo, una nuova metodologia, una nuova strada per andare verso i successi. Perché questo io mi aspetto. Mi aspetto di andare verso i successi ma non me lo aspetto solo perché sono tifoso di una squadra gloriosa come il Milan. E su questo apro una piccola parentesi poi torniamo su cosa mi aspetto perché io questa cosa non transico, io non posso accettare di sentir dire che noi non siamo più il Milan di Berlusconi perché allora si giustifica qualsiasi cosa. Noi non siamo il Milan di Berlusconi ma quando negli anni dei vari Suso o peggio ancora, dei vari Costanto, di questa gente qua di Max S eccetera e quando tutti si arrabbiavano perché il Milan è il Milan e non si può accettare di non andare neanche in Europa League. Adesso invece dobbiamo accettare il fatto che si sia obbligati ad un ridimensionamento, a un rimpicciolimento, a una nuova condizione nella quale io francamente non voglio stare perché sono tifoso di una squadra che ha una storia. La storia è tutta qua dietro di me, tutta qua e questo non è niente. E questa storia qui conta, come conta per il Real Madrid, come conta per tante altre squadre che hanno scritto la storia di questo sport. E allora non posso accettare il ridimensionamento, non posso accettarlo ma non perché io sia un testardo e nemmeno perché io sia un romantico ma semplicemente perché io leggo quello che dichiarano i nostri dirigenti. I nostri dirigenti hanno rinnovato l'ambizione e hanno rinnovato l'intenzione di portare il Milan sempre più in alto, a primeggiare in campionato e in Europa. Queste sono le parole del nostro amministratore delegato Furlani alla Gazzetta dello Sport e non al Corriere di San Gottardo. Quindi a quelle io mi leggo ed è questa la ragione per la quale sto aspettando. Certo poi sto aspettando e sto aspettando anche che comunichino l'ufficialità di Tonali al Newcastle. Ho già fatto visite mediche quindi potrebbe nel momento in cui vedete il video potrebbe essere già arrivata. Vediamo un po'. Ora vi dico subito sono le 18.56. No, non è ancora arrivata l'ufficialità. Cosa intendo dire? Intendo dire che quando arriverà l'ufficialità della cessione di San Nortonale al Newcastle, siccome a me non interessa di soldi, non mi interessa quanto è stato pagato, poco, tanto, giusto, non mi interessa. A me interessa che venga immediatamente annunciato il nome del sostituto. Perché una grande squadra fa così. E siccome Milan è una grande squadra, è una grande società e ha a capo dei dirigenti, degli amministratori che mi hanno garantito che il Milan resterà in alto e continuerà a lottare per ambiziosi obiettivi, una grande squadra fa così. Nel momento in cui cede un suo giocatore importantissimo, ne annuncia subito un altro altrettanto importante. Quando, a parte il fatto che poi questo esempio che vi faccio è improprio, ma rende un po' l'idea, quando il Real Madrid ha venduto Casemiro e ha venduto un giocatore di 30 anni che aveva già dato tutto, non un giocatore di 22 anni che non aveva ancora dato tutto quello che poteva dare. Ma vabbè, passiamo sopra anche a questo. Ha immediatamente annunciato Chouameni, cioè il suo nuovo centrocampista. Le grandi squadre fanno così. Esce un grande giocatore, ne entra un altro. Perché deve essere garantita una continuità di ambizione. Un'immagine anche. Un'immagine e anche poi un messaggio a tutto l'ambiente. Cioè, noi abbiamo venduto questo giocatore perché ritenevamo che l'offerta fosse giusta. Non voglio usare l'espressione irrinunciabile, perché lasciamo perdere l'irrinunciabilità di un'offerta. L'offerta era giusta. Noi abbiamo ritenuto che, da un punto di vista sportivo ed economico, questa fosse un'operazione da fare. Quindi abbiamo fatto pressione sul giocatore affinché accettasse. L'ha detto Sky questa mattina. Facciamo finta che non sia vero. Non gli ha detto niente. Ha chiesto a Tonali, classica trattativa, si fanno sempre in tre queste cose. Quindi ha detto a Tonali, c'è un'offerta del Newcastle. Tonali ha detto quanto mi dà il Newcastle. Ok, vado. Perfetto. Lo accettiamo. È difficile perché vedere Tonali, oltretutto con la maglia bianconera, anche un po' così, un po' pelosa come storia. Ma al di là di questo, ce ne facciamo una ragione. Il calcio è anche questo. Il calcio è anche compravendita di giocatori per elevare il livello. Quindi, nel momento in cui Tonali verrà annunciato al Newcastle, io mi aspetto immediatamente l'annuncio del nuovo centrocampista. E questo nuovo centrocampista dovrà essere un centrocampista di livello. C'è un centrocampista che, non solo numericamente, ma anche tecnicamente, riesca a compensare una partenza importante come quella di Sandro Tonali. Perché io ribadisco un concetto. Sandro Tonali è più forte di Frank Essie. E quindi, già per molti abbiamo patito la partenza di Frank, non adeguatamente sostituito, e con la partenza di Sandro Tonali ci ritroviamo praticamente con un intero reparto da fare. Quindi, è chiaro che io non posso pretendere, perché conosco benissimo i limiti dentro i quali si deve operare nello sventurato campionato di Serie A, ma mi aspetto che a centrocampo arrivino almeno altri tre giocatori, almeno, no? E di questi uno, il titolare. E il titolare deve essere un giocatore forte. Un giocatore forte almeno quanto Tonali, perché altrimenti si è nel campo delle scommesse. E le scommesse non coincidono con le ambizioni che mi sono state proposte. Le scommesse coincidono con quel percorso che io credo la società abbia in mente, ma date le premesse date all'intervista di Furlani, io devo essere smentito. Devo essere smentito. Voglio fare un video col titolo Sono stato smentito. Assolutamente. Non sto scherzando, sono molto serio. Sono molto serio, perché le grandi società operano così. Quindi, aspetto il nome, voglio il nome del sostituto adesso. Non voglio credere a certi Twitter che sono usciti oggi, del tipo il Milan, adesso non ha fretta di pensare, ragionerà bene, no. La questione di avere fretta, questione che fra poche settimane c'è il ritiro, poi si parte anche per la tournée, ma soprattutto, ripeto, dal punto di vista di immagine, dal punto di vista di essere grande squadra e rinnovare le ambizioni, io mi aspetto il nome subito. rispetto il nome subito. Altrimenti, vorrebbe dire che si comincia un pochino a pensare che magari, ecco, quell'ambizione è un'ambizione che va pensata, elaborata, costruita, eccetera, che non si hanno molto le idee chiare. Io non lo so se loro abbiano le idee chiare oppure no, non ne ho idea, non so nemmeno come operino, perché c'è stato detto qualcosa, altro, ma tutte cose un po' a mezzo stampa, per cui noi riaffettiamo un pochino, ci portiamo via un paio di etti, non di più. Aspettiamo comunicazioni anche da parte della proprietà, magari, per capire a livello di struttura societaria che cosa vogliono fare, perché noi al momento siamo rimasti con Paolo Scaroni, che ha intervistato, dice, ringrazio Maldini, ma noi non ne abbiamo più bisogno. Quindi se non c'è bisogno di Maldini, evidentemente, la struttura che si è deciso di creare con l'amministratore delegato, il capo dei visionatori e dei giocatori, e l'allenatore è una struttura adeguata per le parole di Furlani, quindi per l'ambizione rinnovata. Poi dopo devo leggere di, e qui entriamo un po' nel calcio, grazie a Dio, devo leggere di Frattesi. Ora, fermo restando che non credo assolutamente a queste ipotesi, facciamo anche solo perché Frattesi ha già detto che vuole andare all'Inter, ma al di là di quello, nemmeno per la cifra, perché poi anche lì vedete 40 milioni, 35 milioni, bisogna vedere come compri, quindi quanto sei bravo anche a trattare, perché può essere anche che siano 40 milioni, ma tu lo prendi in prestito con diritto, con obbligo, tra un anno, quest'anno non metti a bilancio quasi niente, lo vai a pagare il prossimo anno. Potresti anche fare una cosa del genere, no? Le altre società fanno queste cose, quindi credo che i nostri sappiano operare in questo senso. Ma al di là di questo, sinceramente non è il tipo di giocatore, cioè siamo allo stesso discorso che avevamo fatto per Loftus Cic, che essendo un nome, credo, di Maldini, è sparito dalle cronache, è anche un po' Camada, comunque vediamo se arriva Camada, magari se stanno solo la giustà con i procuratori. Frattesi non è un nome che mi porta a pensare a grandi ambizioni, Frattesi è un contorno, quindi se tu prendi Frattesi e ci metti la cifra che ritieni giusta o che riesci a trattare col sassuolo, 30, 40, eccetera, tu mi stai mettendo un giocatore che è un pezzettino del centrocampo, ma non è un giocatore fondamentale nel centrocampo, cioè non mi stai prendendo il sostituto di tonali, mi stai prendendo un altro giocatore, anche per caratteristiche, perché tenetevi presente che sono due giocatori completamente diversi. Se pensate che possano essere l'uno alternativo all'altro, consiglio di vedervi qualche partita di uno e dell'altro e fare attenzione a mettere un po' la telecamera sopra quei giocatori. Non è un giocatore che mi alza il livello, non è un giocatore molto pubblicizzato, perché probabilmente è in trattativa con alcune squadre, molto pubblicizzato perché ha una dirigenza che opera bene a livello di saper vendere e anche a livello di saper far comunicare ai propri assistiti, ai propri dipendenti, ai propri giocatori. Però non è un giocatore che mi sposta niente, ma proprio niente. C'è un giocatore da pareggio. Quindi non può essere quello. Allora, in questo senso, se effettivamente il Milan vuole prendere frattesi, è evidente che il Milan abbia in mente di fare un mercato importante, un mercato da budget importante, perché, ripeto, quello è un pezzettino della storia, ma un pezzettino, ino proprio, cioè. E anche lui, a fine conti, è una scommessina che prendi, magari ti va bene, come è andata bene con Tonadi, faccio fatica, ecco, a poterli considerare sullo stesso livello. Però io non sono del mestiere, quindi loro sapranno meglio di me, ma è un pezzettino. Quindi mi prendi frattesi? Va bene. Non è che mi fa impazzire, però va bene, lo accetto. E poi dopo però, cioè, ci vuole il grosso calibro, perché non può essere lui il sostituto e il mercato a centrocampo, poi si riduce a magari 3-4 sconosciuti che provengono da chissà quale campionato, perché poi dobbiamo ancora mettere in moto il meccanismo di selezione della nostra dirigenza, che, come dire, continua a promuovere un certo tipo anche di iniziative, che sono quelle della ricerca di giocatori nuovi, giovani, da valorizzare, eccetera. Quindi quello è un altro pezzo del contorno. Frattesi è un contorno, però io voglio il primo e il secondo, almeno, o solo il secondo, dai, non stiamo a mangiare troppo che poi ci appesantiamo. Voglio il secondo, quindi voglio il nome importante. Questo è quello che penso. Perché se, ripeto, se le ambizioni sono veramente quelle che mi sono state annunciate, io voglio crederli. E guardate, sono molto serio, nulla di quello che ho detto in questo video è ironico o sarcastico, sono molto serio. loro mi hanno detto delle cose, io come tifoso ti do credito, ti do fiducia, ho dubbi, ma questo è normale, come chi invece crede che il Milan farà una grande squadra. Mi auguro che abbia ragione chi crede che il Milan farà una grande squadra, però voglio i nomi, voglio i giocatori. Subito. dopo la questione tonali non c'è più il mercato deve ancora cominciare. No, tu hai fatto uscire, giustamente, a detta tua, il miglior centrocampista in rosa, mi devi portare il titolare e deve essere pari più. Questo è il mio pensiero. E il tuo? Ciao.